Momento davvero difficile per Antonella Clerici, la conduttrice è stata travolta nuovamente dal gossip. A quanto pare lei e il compagno Vittorio Garrone sono davvero in crisi. Gli ultimi mesi sono stati impegnativi per Antonella Clerici, poco dopo il finale si stagione di è sempre mezzogiorno la conduttrice ha dovuto affrontare un delicato intervento alle ovaie che ha richiesto un lungo periodo di riposo. La Clerici, a causa dell'intervento, ha preferito rimanere lontano dalle scene così da dedicare ogni attenzione a se stessa in vista di un'ottimale ripresa, prima di tornare in scena nel cooking show di Casa Rai 1. Da qualche settimana a questa parte, poi, Antonella Clerici ha deciso anche di lasciare l'Italia e sua bellissima casa nel bosco per recarsi in Normandia. Un appuntamento fisso per la conduttrice con uno dei posti del cuore dove trascorrere l'estate. Nonostante tutto, però, le voci di una crisi con Vittorio Garrone sono diventate molto più insistenti, e i fan della coppia sono già in allarme. Ecco cosa sta succedendo. È già finita con Vittorio Garrone per Antonella Clerici? Il 2024 ha riservato una lunga serie di momenti difficili da vivere per la conduttrice che, nonostante tutto, ha trovato il modo perfetto per rimettersi in gioco in men che non si dica. Adesso che l'avvio di una nuova stagione televisiva ricca di appuntamenti che la vedranno davanti le telecamere, la conduttrice ha messo in atto una vera e propria fuga in Normandia, qui dove si rifugia ogni anno in estate. L'assenza di Vittorio Garrone da alcuni scatti, però, ha alimentato il rumor secondo i quali lui e Antonella Clerici possano essere in crisi. Ad alimentare il rumor in questione, poi, una foto pubblicata da una persona molto cara ad Antonella Clerici, che l'ha raggiunta proprio in Normandia per trascorrere del tempo insieme a lei. Ecco di chi si tratta. Finalmente insieme, a lasciare senza parole di fan di Antonella Clerici, dunque, è stata la foto pubblicata da Fulvio Marino che l'ha raggiunta in Normandia per trascorrere insieme alcuni giorni di vacanza. L'assenza di Vittorio Garrone dalla foto in questione, però, ha alimentato non pochi rumor circa una possibile crisi proprio con la conduttrice. Rumor che, almeno per il momento, non trovano alcun fondamento. Antonella Clerici e Vittorio Garrone, infatti, non si sono mai nascosti ai fan, ma hanno sempre calibrato con molta cura nel dettaglio le uscite sui social e non solo. Almeno per il momento, quindi, sembrerebbe che la crisi sia stata archiviata dalla coppia in totale silenzio.